Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dal vostro Draven, con me è Tony di Gran Ritorno, Comeback di Ironhawk, Andrea e Nemesis, salutate. Ciao ragazzi! Poi sveleremo il retroscena di questo video, ossia quello che è successo prima. Ah, tipo tre partite e mezzo registrate a vuoto e buttate, ma vabbè nel dettaglio. Sì esatto, dove faccio run out, triple, così a caldo. Sì esatto, roba, sparano dalla finestra e non ci sono meno facciate. Ok, sono appesito alla balconata sul ping. Ok, sono appesito, sono appesito, ho droppato uno sulla balconata. Droppato uno sulla balconata. C'ho il mira che guarda proprio qua la finestra. Ce ne sono due sul ping. Ok. Uno è qua, uno è qua, uno è qua. Droppato? Calma, calma. Vengo con la yokai, vengo con la yokai, aspettate. È il jackal là. Ce n'è anche uno sulla porta. È entrato. Ash, spot. Cosa uno? Anche Ying è entrato, spot. Sono in tre, eh? Maverick è sulla finestra di bomba B? Non più, adesso, Ying. Vuovo il ping. Ce la possiamo fare. Ash, sono in due qua, eh. Calma. Dai, l'ho stordita, vai, vai, vai. Ma io dico, ma perché mi devo fidare di un random con Bandit che usa C4? Ovvio, perché poi ci dobbiamo morire. Ma io... Lancio il lumen, Ying, lancio il lumen. Sit che ora lo prendo. Sit che ora prendo l'hackshot. Ok, bana dietro... Neme. Sì, sì, lo so, lo so. L'avevo collata, infatti. Maverick si sta spottando. No, Andre, no, Andre, no, no, Andre. No, Andre. Spot. Pronto. Da dove? Spostare il secondo yokai, Neme. Ok. Maverick è su finestra di bomba, eh. Hit. Hit sulla balconata. Sì, calma. Giocatela, giocatela con calma con i due yokai. Con calma, con calma. Se non fanno a me non riescono a entrare perché sto reggendo tutta la difesa. Ok, gli usi... Ok, gli usi sono lì, eh. Tutti e tre lì, eh. Gli usi dai, Raffa. E uno è qui, invece. Entrano. Doppia, doppia flash. Tua. Bella, ragazzi. Bella, sì, sì. Bella, sì, sì. In questa mappa, ecco, fa veramente tanti danni. Te lo posso garantire per esperienza personale. Eh, da fastidio. Da fastidio, da fastidio. Ok, questi non si hanno sopra. Stanno dove eravamo noi. Hanno Lesion, Rook. Sono sopra? Sì, sì, ah, tipo, soffitto, soffitto. Ok, black eye esterno, raga. Black eye esterno. Spunchi è la, Rook. Occhio, lo spunchi... Raga, mi hanno fatto. Eh, non posso l'attaccare da solo, però, eh. Eh, io non ho bisogno di spazienze. Occhio, occhio, sono lì. Sulla finestra. Ci posso... Ho uscito su scale. Eh, Lesion, se l'è fatto. Sì, magari la chiudavano... Alla finestra, occhio. Non riesci a salire. Che ha fatto Vigil? Prova ad entrare. Aspetta, Andrea, ce ne sono un paio lì, eh. È entrato in bomba, eh. È entrato, raga. Arrivo, ragazzi, mi coprite. A testa bassa, vai, a testa bassa. Ok, planto, planto, planto. Planta. No. Sto plantando. Non fai niente. Buona, 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 buona. Uh, ma, ragazzi, ho vista brutta. Stavo morendo in 3.000 modi diversi, io. Stavo perdendo in 3.000 modi diversi. Buona. 4 assist. Ce ne ho buttato a terra uno. C'è 4 assist. Vi dico solo questo, vabbè. Computer. Ci siamo? Stia registrando? Sì, sembra che stia registrando tutto. Non sa mai. Oh, sta rompendo il filo spinato. Chi è? Mi sa da scale, raga, eh. Sto arrivando. Ah, no, ho rotto la briccia. Mi ha fatto breccia. Vesto. Scala ovesto io? Ah, ok. L'ho hitata brutalmente. Buona, buona, buona. Mi riesci a restare? Mi riesci a restare? No. Uno è sempre sulla briccia, la destra. Ma sei pazzo? Ma ma mazzi così, Andre. Eh, non lo sapevo però. Sono fatto una... Andre, per restare in wallbang. Cioè, ma... Lasci. Pronto, Tony. Vieniamo così che stiamo andando da più, eh. Libana. Muori. Bella, bella. La volta mi aveva scordato che ti uccidi qualcosa. Pensavo che si buttasse solo a te. Tu sei un co***e. Cioè, Mattia, tu secondo te mi ammazzi con lo smoke? Au, che c***o si ricorda? Ma poi non ci gioco da un anno? Due anni, anzi. Tu sei una testa di c***o. Eh, pensa a due secondi, due o tre secondi per rianimarlo. Certo, perché il fumogeno si blocca, si apre a mo' di acqua di Mosè, e ti dice, vai, rianima pure e poi io continuo il mio lavoro tossico. Ma che discorso è? Raffaele, non scaldarti, non ci si... Mi sta veramente... Mi sta urtando l'anima a registrare con voi. Sono sotto questi, eh. Sono sotto. Dai, raga, chiudiamo sto match che è abbastanza obbrioso, veramente. Fatto. Grazie. No, non hai fatto proprio niente, non hai fatto. Sì, te l'ho tolta, zio. Te l'ho tolta. Qua va là, ma cos'è che mi... Madonna, santa. Ragazzi. Ragazzi, eh, lo so, ma se non me la chiami destra-sinistra, io non lo capisco, io sono andato sulla sinistra. Ah, c'è il muro di mira sulla spot. Aspetta. E sta la mira qui dietro. Io non ho più droni, eh. Vigila. Dai, porca miseria. Connector tra le due bombe. Ce l'avete uno proprio davanti a te, Tony. Eh, lo so ne ho uno. Dronate, raga, dronate, dronate. Non ho droni. Lui dietro un vetro di mira. Vetro di mira e spot rosso. Vetro di mira davanti a te, Neme. Alla porta. Ne avete spottati entrambi. Ne avete spottati entrambi. Bam. Che la bomba. Oh, guarda quella. Abbiamo perso troppo tempo, raga. Abbiamo perso troppo tempo. Ma tutto è nato dalla mia uccisione. Non è che sta andando proprio con Ashky Fitz la parte scala. Eh, lo stiamo a vincere tutte. Lo stiamo a vincere tutte noi. Allora. Ora l'hai detto. È nel drone stortente, eh? C'è Blitz, raga. È entrato, eh? Dove? È entrato. Sono due, Montagna e Blitz. Su, ah. Preso? No, ancora no. Ho le montagne da me. Dove? Da te, quantifica. Twitch? Eh, montagna, sfoggiarlo. Boh, 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 boh. Sì, 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 sì. Wow, la stavo pre-fireando, me l'hai beccata a te. No, no. Ungoloide. Per farsi una kill. Guarda te. Buona, raga. Buona. Però. Boh. Bocciata proprio. Non mi è piaciuta. Da, ne ho quanti punti. Minnaggia, la mia vita. 66. Mancano... 150. No. 250 punti del platino 1. Bene così. Quindi, ragazzi, mi raccomando, like, supporto a questo video, a questa serie. Qui sotto, ditemi la vostra con un bel commento. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita, che io personalmente boccio completamente. Qui sotto in descrizione, ovviamente, come al solito, trovate tutti i link utili per i vari canali social. E nulla, ragazzi. Noi ci vediamo col prossimo video. Ciao. Ciao.